Quando c'era qualche missione particolarmente difficile, si tirava a sorte. Di solito c'era il turno di volo, ma per le missioni, certe missioni, certe volte che capitava, c'era fuori la flotta, eccetera, si tirava a sorte. E vinceva sempre uno, finché c'è rimasto. Cosa è successo? Che nel preparare la sua roba da spedire alla famiglia, è venuta fuori una medaglia con la quale giocavamo testa o croce, no? Ed aveva due teste questa medaglia. Cioè, lui approfittava di questa faccenda qui e vinceva sempre lui. Cioè si offriva praticamente volontario a tutte le missioni più difficili. finché c'è rimasto. Avvengono cose che oggi giorno...